Ero, feci cremare sul calesomano, e pittire catture fu importanti, lo inditolano, re delle bregane. Così lo chiamavano tutti, re delle bregane, ma non pensai che Corritto era un altro bregane, no, a Montelepre tutte le bregane lo volevano bene veramente perché Corritto, giovane e galante, era amoroso con tutte quelle gente. Ma specialmente i figli e i genitori, era lo specchio e lo giovenito. Mi faccio, signore, guardare il quadro numero uno. Corritto, oltre ad essere il più giovane della famiglia, era lo più gentile, lo più onesto, lo più lavoratore. Corritto voleva bene a tutte le paesane, ma specialmente all'isogginitore. Venne la guerra e poi con grandi errori lupani si viste desiare, ma che decasechiamo, signore.